Però la questione è che io ribadisco, poi posso usare parole più o meno differenti ma qui c'è un grande questione di disagio montante, di coesione sociale che fa fatica a avere la forma del passato che ci piace o meno e quindi quello che noi riteniamo è che c'è un tema che si chiami sicurezza e coesione sociale che vada visto nell'insieme. Quello che ne viene fuori organizzativamente, posto che la pubblica amministrazione va su logiche organizzative, è di da un lato chiedere a Franco Gabrielli, quindi individuare in considerazione della sua esperienza, un ruolo da delegato del sindaco per sicurezza e coesione sociale che vuol dire che deve lavorare con me e con noi per proporre specifiche strategie che rispondono alle nuove esigenze in materia di sicurezza urbana, ma di rafforzamento della coesione sociale, vuol dire lavorare sui municipi, vuol dire elaborare nuovi interventi, vuol dire lavorare sempre più in condivisione con l'intero sistema che gestisce la sicurezza. E quindi questa delega, ma soprattutto è importante, da oggi stesso costituiamo un comitato strategico per la sicurezza urbana e la coesione sociale, di cui fanno parte le quattro persone che partono da qui, quindi io, i due assessori e Franco Gabrielli. Proprio per quello che dicevo prima, e cioè l'interesse di Milano è prevalente su tutto, su me, su loro, se io avessi pensato in qualunque momento che io, loro, non eravamo in grado di gestire la cosa o rispetto a quello che si poteva fare avessimo lavorato male, avrei preso me stesso, Marco, Alberto, e dire senti, hai fatto la tua parte e ti ringrazio a questo punto sotto qualcun altro. In realtà io, e lo devo dire soprattutto nei confronti di Marco, che ha uno dei ruoli più infelici che ci sono, perché come in Italia è difficile fare il ministro degli interni senza essere messo in discussione, ma guardate che anche a Milano fare il lavoro che fa Marco Gabrielli non è la cosa più semplice del mondo.